buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio buona finale di domenica senza il Milan e grazie a Dio perché facciamo letteralmente schifo e voglio fare questo breve video per dire cosa ne penso di Luan Lopetegui hashtag se viene Lopetegui retrocediamo se viene Fonseca retrocediamo basta l'algoritmo basta il moni schifo o una proprietà o via cardinale o non ti fiamo più ma vogliamo i fatti cardinale sei una marea di proclami una marea di vogliamo vincere come cazzo si vince in queste condizioni io ribadisco il mio no a Lopetegui no a Fonseca no a Gaciardo no perché gli stranieri tranne il Barone Lido hanno fatto letteralmente schifo al Milan di cui due su tutti Oscar Washington da Barrett che poi ha avuto altri problemi di salute e l'indegno di Rim due massacri due massacri di stagione veramente due scembre e questa stagione è come il 97-98 una banda di stranieri che non ci accocchia un cazzo allenata a cazzo e che porta risultati di cazzo perché abbiamo fatto letteralmente schifo e questo video della domenica pomeriggio pre derby è anche per dare un messaggio ai calciatori ce la volete dare una cazzo di gioia in questo schifo di anno dove siamo costretti a sopportare la seconda stella nera azzurra eh ce la volete dare una cazzo di soddisfazione una una lasciamo perdere la festa quella la faranno prima o poi la faranno però almeno di non oltraggiare il nostro stadio con la festa nera azzurra almeno questo ce la volete dare perché già io non ho dormito due notti per colpa della Roma non voglio arrivare a 5 per colpa della festa nera azzurra non ci voglio neanche pensare non ci voglio neanche pensare a una possibile che almeno tirate fuori gli attributi tirate fuori un qualcosa se lo avete e ribadisco la mia ferma candidatura di Ignazio Abbate perché Ignazio ridendo e scherzando sta per diventare potrebbe diventare campione d'Europa forse non vi rendete conto ma ha comunque messo in vetrina Zeroli Raver Camarda Sia e e altri giocatori della primavera Simic che guarda caso ha debutato col Monza e poi scombarzo altro schifo di ste Imenez scombarzo altro schifo di ste come quei pochi superstiti che ancora difendono indifendibile oggi avete visto il Sassuolo ecco noi abbiamo dato un punto a questi qua la Sernitana ha fatto un punto su 15 con noi e altro schifo e altro schifo io non so come si faccia a dire Manfredi che Pioli è il migliore allenatore della Serie A io non lo so perché forse vedere una squadra letteralmente messa a a a a a a una fase difensiva uscena io non so come si fa a dire che che il Napoli potrebbe potrebbe lottare per lo scudetto con Pioli in banchina ADL che è ancora più spilorcio di di Cardinale quando comincerebbe a vedere emergenze infortuni cambiosceni i derby non li ha grazie a Dio il Napoli ma quando comincia a vedere la squadra messa al cazzo di cane lo esonera senza pietà non è così ma io ribadisco molti dicono no a Vincenzo italiano perché prende troppi gol perché Pioli che fa fatemi capire almeno Vincenzo italiano ha dei campi sensati e gioca all'attacco boemo per boemo cioè almeno forse vinciamo qualcosa forse vinceremo qualcosa ma io ribadisco la mia totale sorpresa che Ignazio Abate non venga neanche cagato forse perché non ha un nome forse perché deve fare ancora la cavetta però se guardate giocare la primavera vedete che la primavera gioca meglio della prima squadra penso che se no non si arriva in finale di Champions League eh ma i rigori devi sapere battere i rigori devi segnare non cambiare i rigoristi già è una cosa vuol dire sapere avere le idee chiare mandare sempre gli stessi vuol dire che hai le palle per mandare sempre gli stessi tirare fuori Camarda che quello che tutti dicono che sta facendo queste ultime partite non sta giocando bene vuol dire avere le palle quindi Abate le palle ce l'ha e soprattutto è milanista quello che a noi manca è un allenatore che riporti regole milanismo serietà serietà cosa che sinceramente io non ho visto in molte partite ma soprattutto che dia una quadratura di gioco fissa che non vedo Musa a fare il terzino e Calabria a fare il centrocambista perché non è da allenatore migliore della serie A mettere i giocatori fuori ruolo è a cazzo di cane detta proprio proprio ante capocchiam tanto proprio cercare soluzioni cercare cose inventarsi delle cose mai oscene oscene io voglio ringraziare quelli che mi hanno scritto dire che presto sui prossimi video e dall'anno prossimo verranno aperte le donazioni tramite Paypal tramite PostePay comunque metterò il link e potrete aiutare Mr. I am Mr. Blogger Vareleani chi lo vuole sempre nella piena libertà perché è ora di andare là e fare un po' di casino e vorrei andare là e cominciare a fare un po' di rivolta fare come ha fatto la curva del Napoli che non ha tifato per un quarto d'ora fare come i senati per vincere la curva vuota perché facciamo schifo perché io ribadisco quello che ho detto nel video dell'altra volta siamo come dei fidanzati cornificati e poi decidiamo di mollare e quella ci rite pure in faccia perché Pioli ha detto io farò le mie valutazioni non ha ancora chiesto scusa non ha ancora chiesto scusa non ha ancora chiesto scusa io veramente cioè è come se adesso la colpa fosse nostra cioè sta rivoltando la frittata io farò le mie valutazioni invece di dire io chiedo scusa per lo schifo di stagione che abbiamo fatto e se la società vuole cambiare ha tutto il diritto di farlo lui rivolta la frittata uno schifo io perciò non guardo né più né le interviste prima né le interviste dopo oggi me l'hanno detto e sto facendo questo video per vomitare altro schifo perché ce n'è bisogno perché ora passa il fatto che noi siamo gli imbecilli e lui è quello forte che la colpa è del Milan magari ne può passerare il messaggio che l'emergenza infortuni è colpa del Milan non è colpa del suo staff atletico di imbecilli che magari l'anno prossimo a culo vince qualcosa la colpa è la del Milan che non gli ha comprato i giocatori ma ricordatevi che i giocatori questi che quest'anno li ha voluti lui non ve lo dimenticate mai questo ve lo voglio ricordare non vi azzardate a dire eh no ma gli acquisti non li ha fatti lui perché sono stati maldati via Maldini e Massaro scusate che stavolta finalmente l'ho azzeccata perché secondo loro avevano cannato il mercato e perché voleva avere troppa autonomia ma Maldini ci aveva visto giusto scusami Paolo scusami scusami che lo voleva mandare a fangulo perché CDK appena andato da Gasperini ha fatto il fenomeno ha fatto una buona stagione segno Franks è sparito Franks è sparito ribadisco il concetto quando hai mandato via Maldini e Massara dovevi mandare a fangulo anche lui perché il gruppo era unito è un treppiedi deve cascare tutto il treppiedi tu sei voluto andare a fondo insieme a lui e ne paghi le conseguenze che dovrebbero essere curva vuota contestazione fischi assordanti ma non a fine stagione perché io voglio ringraziare quelli che mi hanno detto mi hanno scritto hai ragione ma adesso non serve a un cazzo adesso non serve a niente perché è da inizio anno che vi avevo detto questo allenatore ma soprattutto da tre anni a questa parte che dovevamo cambiare e adesso ribadisco non lo peteghi lo stagione allenatore dovevi farlo prima dovevi mandarlo a fangulo dopo il derby perso 5-1 e durante la sosta per i nazionali mettevi a bate magari a quest'ora vincevi qualcosa vincevi qualcosa perché a bate ribadisco ridendo e scherzando sta rischiando di diventare campione d'Europa a livello giovanile però sempre campione d'Europa ed è meglio di lui che ha vinto solo uno scudetto e in Europa ha fatto schifo aperto e chiusa parentesi quindi quindi e ribadisco come ho detto l'altra volta salvavi il porco salvavi il porco quindi 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 io voglio chiudere questo video dicendo ai giocatori di darci una cazza di gioia perché io ribadisco guardare questi video io avevo programmato il silenzio io domani vorrei non parlare anche se vinciamo io non parlo anche se dovessimo vincere non sarai né contento né altro perché la stagione è comunque uno schifo faccio questi video in rispetto a quelli che finalmente si sono iscritti aumentando il numero degli iscritti gli ringrazio tu devi parlare lo stesso tu la faccia ce la metti sempre eh ma non è facile metterla quando non dormi per l'amore della tua squadra quando soprattutto hai ragione e gli altri invece non te ne ancora c'è qualcuno che difende qualcuno che spara a stronzate perciò ribadisco io domani non parlerò neanche se vinciamo magari farò un video tranquillo senza neanche esultare ma forse non lo faccio proprio perché io avevo detto io non starò zitto fino a fine campionato ma faccio questi video per farvi capire quando sono schifato e inorridito da questo adesso si sono svegliati che Pioli è un onzomaro sono tre anni che facciamo letteralmente schifo o me te trequartista ve lo siete scordato io no io no perché nessuno avrebbe messo l'off to chic a fare il trequartista quando al Chelsea giocava centrocampista nessuno avrebbe messo Calabria a centrocampo e se Musa Terzino e qualcuno ha detto il migliore allenatore della Serie A io voglio lanciare un appello a OCV e a Manfredi ogni tanto non lo invitate ma non perché per evitare di sentire certe stronzate è un grande un bravissimo Cristo è un bravissimo personaggio però almeno starsi zitto ogni tanto non sarebbe male perché io non voglio fare il presuntuoso ma perché non lo sono però io quest'anno li ho beccati tutti e nessuno mi ha dato retta nessuno sono rimasto a 1290 iscritti fino a ieri e non va bene perché se uno c'ha ragione gli devi dare anche un premio per averci azzeccato perché non è facile capirci di pallone io avevo detto che questo quest'anno sarebbe stato un massato se arrivavano le emergenze infortuni i campi osceni e altro schifo io ve l'avevo detto guardate che a novembre arriverà l'emergenza infortuna poi arriveranno i terbi persi i campi osceni gli approcci di merda e altro schifo e ribadisco se lui va da altre parti non è che cambia sempre quello schifo vedranno quindi io do un messaggio forse ribadisco ai napoletani o a chiunque abbia pioli come allenatore ribadisco questo è un bravo Cristo beh una brava persona ha detto la starastelli di cui condivido condivido molte idee però uno che non chiede mai scusa eh o ha chiesto dopo eh a me non uno che non si presenta più sotto la curva eh tanto bello non è perché non è molto bello lasciare la squadra da sola a prendersi gli insulti tu sei il capo tu sei l'allenatore tu sei il capo gruppo devi andare là sotto a prenderti lo schifo perché è bello farlo quando si vince quando si è un gruppo si va tutti sotto la curva allenatore compreso quindi non è proprio così bello però ribadisco io voglio soltanto voltare pagina voltare pagina che questa stagione finisca il prima possibile finisca il prima possibile cioè non non te voglio più vedere non te voglio più vedere non te voglio più vedere perché non ribadisco io non sento né più le dichiarazioni pre e né dichiarazioni post non voglio neanche commentare la cosa Silvestrin per le gatti perché non ho gli elementi quindi non mi chiedete cose che non non so però è giusto dire che Silvestrin ha ragione perché per le gatti fino alla sera prima incensava Pioli il giorno dopo no cacciamolo un'idea fa portata fino in fondo io volevo cacciarlo da sempre non ho mai non ho mai detto Piolin io non l'ho mai detto per me doveva essere cacciato perché scarso è scarso è rimasto oltre che sia in borghesita lo aveva vinto lo scudetto quindi quindi però ribadisco è un'annata da dimenticare tipo 97-98 gli stranieri hanno fallito perché la squadra nostra è piena zeppa di stranieri e siamo secondi perché dietro fanno più schifo la Juve il Bologna no però non sono però se azzeccano pure loro le squadre non vinci una matta tu sei l'unico che non vince sei l'unico che non vince non va bene non va bene io voglio ringraziare quelli che hanno scritto quelli che si sono iscritti e vi dico ancora di iscrivervi presto verranno attivate le donazioni tramite come per anche verranno anche fatte delle iniziative di beneficenza se avrò qualche soldo da spendere insieme a voi e soprattutto verranno migliorati i servizi quindi sapete bene a cosa mi riferisco io voglio darvi una buona domenica sera una buona domenica sera sperando che lunedì lunedì sera ci sia una cazzo di gioia che non festeggeremo ciao a tutti